Sarà il Tribunale del Riesame di Lecce a valutare martedì 12 maggio la richiesta di scarcerazione presentata da Antonio Carrozzo e Angelo Dalò, i due brindisini arrestati dalla polizia con l'accusa di violazione della privacy e di esercizi abusivo dell'attività di investigatori privati. I due sono agli arresti domiciliari dallo scorso 22 aprile. Nell'istanza di rimissione in libertà presentata dall'avvocato Rolando Manuel Marchionna si punta a smontare soprattutto l'accusa più grave, quella che poi ha portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare l'aver collocato micro spie nell'abitazione di alcune donne sospettate di infedeltà coniugale su mandato dei mariti violando la privacy e probabilmente anche gli stessi domicili. La difesa nel suo ricorso ha sottolineato che su sei ore e 40 minuti di registrazioni sequestrate dalla polizia solo in due brevi clip di pochi secondi gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di intercettazioni ambientali che a parere della difesa non sarebbero per nulla provate. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia Carrozzo ha ammesso di aver effettuato investigazioni per documentare l'infedeltà coniugale di una moglie non avendone titolo e ha negato invece di aver fornito false dichiarazioni ai poliziotti del commissariato di Mesagne che lo avevano fermato durante un pedinamento e soprattutto ha negato l'esistenza di intercettazioni ambientali. Ai margini dell'inchiesta c'è un presunto caso di spionaggio industriale tra grandi aziende produttrici di vino. In particolare il titolare di una nota cantina avrebbe chiesto all'ex poliziotto Brindisino le videoregistrazioni effettuate dal servizio di sorveglianza dell'azienda concorrente. Una vicenda questa che potrebbe aprire una nuova appendice giudiziaria. Sotto traccia resta invece la posizione di Angelo Dallò che ha prima fatto pervenire ai giudici un certificato medico e poi ha comunicato di rinunciare definitivamente all'interrogatorio di garanzia. La decisione del tribunale del riesame dovrebbe arrivare entro la giornata di mercoledì.